Dopo la mozzarella, il pomodoro e la pizza, viene attaccato un altro mito napoletano, il caffè. Per un noto esperto, infatti, il triestino Andrea Godina, il caffè napoletano sarebbe una ciofeca, persino quello dello storico caffè Gambrinus di Piazza del Plebiscito. I napoletani non ci sanno, il presunto esperto non ha capito proprio niente. Arriva rapida anche la replica del proprietario del Gambrinus, Massimiliano Rosati, che difende la tradizione del suo locale, ma soprattutto del caffè napoletano. Questa è una questione di punti di vista, per noi il caffè è ottimo, il caffè napoletano è il migliore al mondo, almeno secondo il nostro palato. Poi, chiaramente, il caffè rientra nell'ultima delle critiche che viene mossa nei confronti dei prodotti napoletani, quali la mozzarella, quali l'acqua e quali la pizza. Napolet e Trieste, storicamente, sono le due piazze del caffè italiano. In realtà, un confronto e uno scontro non c'è mai stato, ma io penso che non mi piacerebbe, mi piacerebbe un confronto, mi piacerebbe un onesto scambio di opinioni, perché le critiche positive aiutano solo a crescere.